Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin, let's begin Ma adesso Tiziana Camelin mi presenta i prossimi ospiti i prossimi talenti della Notte Romana Titti Camelin Sì sono qua Allora prossimi talenti della Notte della Capitale Loro sono i De Griso Perché va detto bene Sono i De Griso E ci canteranno un brano Che tra l'altro è particolare già nel titolo Caro di Sissi Emilio Giordani Perché loro hanno scritto un brano Che si chiama Cuore Interattivo Nell'epoca di Facebook Non mi sembra proprio una cretinata Scrivere un titolo già È giusto Valerio Russo? No, rispecchia un po' i tempi Diciamo Vero Quindi siete stati cari De Griso Siete stati in assolutamente accordo Con la tempistica Con l'epoca moderna Allora intanto presentazione di De Griso Tu Ciao buonanotte Io sono Fabio Crisello Lui Stefano Sancho Sott'Asterista Noi siamo un gruppo stasera In versione acustica però Facciamo un brano E' stato dal disco di Azeusi Ed è un viaggio Che è un viaggio diciamo Tra vari pianeti Caratterizzati da difetti umani E Cuore Interattivo è appunto Una delle canzoni di questo disco Di una terra abitata da persone Che non hanno sentimenti diciamo Spontaneamente ma fanno tutto Con dei CD programmati Che è atterrente Se si dice Allora Signori e signori Loro sono i De Griso E ci cantano Cuore Interattivo E sono talenti Della Notte Romana Radio Radio By Night Roma Radio Radio By Night Roma Presenta i nuovi talenti Della Notte Romana Fino alle tre in diretta Nulla ti è preparato Un'altra esibizione dal vivo Su By Night Roma Un gioco che Ha un male incontrollabile Un mondo dove gli uomini Comprano le emozioni Prividi L'adrenalina sale su E il corpo umano dà energia A questa dimensione Se tu vuoi cambiare Come sei Lasciati guidare Dal mio sito Ed io Con piacere Do emozione Non razionalità Ogni uomo Crede al suo perdono Cuore interattivo Spacca e esce Misceral cresce Un cerbello senza giro L'unità Rispecchia un cuore E soffoca Sono un ribello E ho avuto una Profetica rivelazione Se tu vuoi cambiare Se tu vuoi cambiare Come sei Lasciati guidare E dal mio sito E dal mio sito Ed io Con piacere Do emozioni Non razionalità Ogni uomo Crede al suo perdono Cuore interattivo Spacca e esce Miscerale cresce Un cerbello senza giro Alla grande Due trentasette minuti Si torna in diretta Titti Camelin Sì loro erano i De Griso Che ci hanno cantato Cuore interattivo Allora dove vi possiamo trovare? Ci trovate su A parte MySpace Anche su Youtube Come Griso Web E sui Toons Che c'è il disco E a Roma Da Ocus Pocus Che è un negozio di dischi Da Via Marruvi 8 Allora ricordiamo Il nome dell'album Che è Diazeusi Giusto? L'ho detto anche giusto Non ci avrei scommesso Dieci lire Dirlo giusto Sono contentissime Allora loro erano I De Griso Con noi a By Night Roma Di Griso Per di Griso Grazie a tutti.